Una modifica di legge importante per quanto riguarda il tartufo a salvaguardia di questo nostro prodotto importante. Sostanzialmente portiamo l'apertura della ricerca al primo ottobre a seguito dei cambiamenti climatici e dello spostamento delle stagioni e anticipiamo la chiusura al 15 gennaio. Una modifica voluta dal tavolo tecnico del tartufo e quindi concertata con tutti i portatori di interesse che girano intorno a questo grande oro della terra, un prodotto che nella nostra regione si trova 365 giorni all'anno e soprattutto in tutto il territorio regionale.